Sì, posso vedere la crisi di gesto se adressa a tutti i nostri pambanelli. Sì, posso vedere la crisi di stagione. Sì, posso vedere la crisi di stagione. Sì, posso vedere la crisi di stagione. La crisi di stagione, ecco Massimo Sì, posso vedere la crisi di stagione. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.